I comuni coinvolti sono cinque, Piazzola sul Brenta, Capofila, Villa Franca, Limena, Campodoro e Campo San Martino. Seconda azione concreta del progetto Alleanza per la Famiglia, dopo la predisposizione dell'albo delle babysitter e dei tutor. A disposizione dei neogenitori uno sconto sulla retta di frequenza dell'asilo nido, realizzato dai municipi in collaborazione con 16 partner privati. L'accordo, sottoscritto dai sindaci, prevede una riduzione del 10% della retta del nido comunale di Piazzola sul Brenta per i genitori dipendenti di aziende che attiveranno l'uelfare aziendale. Una formula che permette di ottenere sgravi fiscali, oltre a favorire la conciliazione vita-lavoro. Un progetto di sconti che i comuni puntano a estendere presto anche ad altri servizi come trasporto scolastico, mensa o attività sportive.